Mercoledì 15 marzo sarà la giornata nazionale del fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari e Casa Rosetta terrà nella mattinata dalle 9.30 al centro in Corso Umberto I 178 a Caltanissetta alcuni laboratori guidati dagli psicologi dell'associazione e rivolte ai giovani sui temi del sano rapporto con il cibo, le emozioni, la percezione della propria immagine. In chi sta accanto resta la sensazione di non aver fatto abbastanza, ha detto il presidente di Casa Rosetta Giorgio De Cristoforo che ha poi aggiunto il problema purtroppo ha una diffusione crescente e generalmente non viene percepito come tale dalla persona interessata e dai familiari. Nelle strutture di Casa Rosetta sono stati spesso colti segni di questa criticità che spesso accompagno e si sovrappone a dipendenze patologiche. L'iniziativa del 15 marzo al centro propone ai giovani partecipanti i corretti stili di vita e intende sensibilizzare a intervenire in modo preventivo sui disturbi del comportamento alimentare ai quali Casa Rosetta dedica da anni grande attenzione e molto impegno al tema dei disturbi del comportamento alimentare. Le conseguenze talvolta sono irreparabili dicevamo e addirittura mortali. La giornata nazionale che ha come simbolo logo un fiocchetto lilla è stata istituita per iniziativa di un padre che nel 2011 ha visto morire di bulimia sua figlia ragazza di 17 anni.